Una città umiliata a vedere un sindaco in aula da solo senza la sua giunta non ha precedenti e la responsabilità è della maggioranza. L'opposizione in consiglio comunale ribadisce tutto il suo disappunto e la sua contrarietà a quanto accade a Palazzo Ducale da ormai un mese. Ancora una volta il tempo passa e la città aspetta, alla fine hanno ragione loro. Sassari dovrà ispiare fino in fondo la pena dell'errore commesso nel 2014, afferma Maurizio Murru, capogruppo del Movimento 5 Stelle, insieme ai colleghi Desiree Manca e Marco Boscani. Il sindaco ha toccato il punto più basso. Ero contrarissimo al commissariamento, però di fronte a tale umiliazione penso che sia doveroso che Sanna si dimetta e si vada tutti a casa. Quello accaduto in consiglio comunale rappresenta la certificazione di un fallimento, aggiunge Giancarlo Carta, di Fratelli d'Italia. E' una vicenda che ormai da qualche mese sta assumendo toni che hanno del ridicolo, prosegue Antonello Sassu, di Sassa di Progetto Comune, che invoca un intervento da parte di livelli istituzionali superiori. Dopo due mesi senza giunta, credo che anche il prefetto debba iniziare ad informare il ministro dell'interno che a Sassari c'è una situazione di non governo della città, prosegue Sassu insieme alla collega di gruppo Rosanna Arru. Questa è la crisi del PD, insiste Emanuele Alivesi di Forza Italia. Il sindaco e il Partito Democratico sono scollegati dalla città come personaggi analogici in un mondo digitale. Stanno trascinando Sassari nel baratro, conclude l'esponente azzurro.